È curioso il comportamento di Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta, quando perde una partita. È già la seconda volta, per fortuna sua non gli capita spesso di perdere a dire la verità, però è già la seconda volta che questo succede e non saluta l'allenatore avversario. È capitato con Maran quando è stato battuto in casa dal Cagliari e la stessa cosa è successa con semplici tecnico della Spal che ha vinto peraltro con assoluto e grande merito la gara di Bergamo. È una situazione abbastanza sorprendente, il comportamento di Gasperini, anche perché l'Atalanta trasmette un sacco di messaggi positivi fra quelli che deve continuare a trasmettere. C'è anche il fatto che si possa perdere e si possa saper perdere e riconoscere i meriti degli avversari, magari con una stretta di mano, come fanno con lui, con Gasperini stesso, le tante volte che lui invece le partite le vince. Il voto a questo comportamento di Gasperini è 4.